al Viviani il Potenza nella prima di due partite casalinghe consecutive mette nel mirino la terza vittoria di fila e la vetta della classifica del girone C contro un Trapani pieno di rimpianti dopo i tre rigori sbagliati nelle ultime due partite e i quattro punti sfumati in classifica per la squadra di Aronica che cambia quattro piedini rispetto all'ultima gara contro la Juventus Next Gen e parte fortissimo con il lancio lungo di Zuppel per Maghett Fal primo centro con la maglia del Trapani per l'ex attaccante della Gianna Erminio che sorprende in velocità Riggio e non da scampo a Cucchietti il Potenza che schiera lo stesso 11 dell'ultima giornata parte invece con grandi difficoltà Zuppel con il sinistro potentissimo va ad un passo da raddoppio che è ritardato soltanto di qualche minuto quando l'ex Silvestre che infatti non esulta trova il gol del raddoppio sull'angolo battuto da Carriero tutto troppo semplice per un Trapani che vola sulle ali dell'entusiasmo troppo solo il difensore centrale che ha tempo di piazzare con il destro sul palo più lontano non si ferma la squadra siciliana che cerca anche il punto del 3 a 0 quando Caric guarda in mezzo per il movimento ancora di Zuppel preferito Alice Cano da punta centrale va ad un passo dal gol numero 3 l'attaccante di Monte Pulciano si vede solo nel finale di primo tempo il Potenza su situazione da fermo ma non riesce a trovare Riggio la deviazione sui sviluppi di calcio di punizione molto più pericoloso Caric che controlla ed esplode il destro Cucchietti distinto ribatte nel finale di primo tempo Caturano prova a prendersi sulle spalle la squadra prima sfiora di testa il gol dell'1-2 lo trova al minuto 40 con una super deviazione con il sinistro secondo gol consecutivo dopo quello da 3 punti contro l'audace Cerignola quarto centro in stagione per il calciatore napoletano che sale a quota 78 centri nel campionato di Serie Cinau conclusione sotto la traversa sulla quale Seculin non può nulla riprende vigore anche il pubblico del Viviani a inizio di secondo tempo Caturano sulla testa l'occasione del gol del 2-2 ma se la divora spedendo la palla per centimetri alla sinistra del palo della porta protetta da Seculin espulso al cinquantasettesimo novella e sei minuti più tardi arriva il gol del 3-1 lo firma Bifulco entrando dalla panchina mossa azzeccatissima quella di Aronica che gestisce anche i cambi con intelligenza fall Carriero Bifulco e qui la partita prende la direzione voluta anche dai 14 tifosi arrivati da Trapani per assistere alla partita della loro squadra Carriero costringe Cucchietti al superintervento al minuto 65 ma il Potenza non c'è più perde un'altra palla in uscita questa volta Bifulco Assisman per l'Escano che dopo il rigore sbagliato contro il Taranto si riscatta trovando il secondo centro in stagione 4-1 al 74esimo per un Trapani che torna devastante dal punto di vista realizzativo dopo le tante e troppe occasioni sprecate nelle ultime due partite e l'attaccante italo-argentino trova anche la doppietta con questo pallonetto a scavalcare Cucchietti bisogna risalire allo scorso aprile quando il Trapani ancora in Serie D segnò per l'ultima volta 5 reti anche in quel caso lontano dal proprio campo punizione invece tremenda per il Potenza la seconda sconfitta in stagione dopo il 4-1 per mano del Benevento prova nel finale la formazione di De Giorgio a rendere meno pesante con Rossetti l'entità del passivo pallone che però si perde sul fondo finisce 5-1 per il Trapani che fa il pieno di entusiasmo in vista della prossima sfida con la Turris torna sulla terra il Potenza